Max vai a vedere se mi si vede il piede Non è mai troppo tardi per testare un paio di scarpe innovative anche in un periodo di pioggia Soprattutto quando questa scarpa ha una concezione di corsa e un design diverso rispetto ai modelli già conosciuti Quindi oggi sono molto contento di informarvi delle novità di Topo Athletics del 2020 ossia le Zephyr e Magnify 3 scarpe rispettivamente dal Drop 5 e 0 che con Andrea Sofientini abbiamo iniziato a testare nei giorni scorsi Ieri sera avevo già registrato una prima versione di questa introduzione purtroppo la pioggia ha un po' rovinato le riprese quindi oggi ci riprovo Ieri sono andato con Andrea in pista garbagnate per vedere come queste scarpe si comportano nei prossimi giorni parleremo in maniera completa della recensione delle due scarpe comunque sappiate che queste scarpe hanno un fit diverso, hanno un drop più basso e incentivano a correre di avampiede Secondo i designer facilitano il movimento naturale del piede e inoltre migliorano la performance della corsa Sarà vero? Beh, lo vedremo nelle prossime settimane Ad ogni modo con Andrea ieri abbiamo parlato delle prime impressioni che a differenza del solito non saranno così dettagliate Nei prossimi giorni vi parleremo anche di come prepariamo le recensioni Ora lascio la parola ad Andrea che vi racconta le sue prime impressioni Andrea, allora quale delle due scarpe ti piacciono di più? Ma io voto per questa, a dire il vero Io so per quale voti te, quindi io voto per questa Beh, non a caso abbiamo scelto quelle che ci piacciono di più Non potevamo scegliere la stessa però Beh, ringraziamo Topo Athletics che ci ha mandato queste due meravigliose scarpe Zephyr e Magnify 3 Con le quali abbiamo corso per la prima volta oggi E che nei prossimi giorni testeremo sul canale Andrea, cosa ne pensi dopo la prima uscita? Guarda, devo dire che avevo una fiacca clamorosa sull'alluce E oggi non l'ho sentito con queste scarpe qua Sono belle spaziosi nell'avampiede Non mi sono trovato per niente male Come prima impressione sono contento Ma non è che tu fai i lenti un po' troppo velocemente? Oggi ci siamo tirati il collo Però, non lo so, mi ha invogliato a spingere abbastanza questa scarpa oggi Ebbene, queste scarpe che sono 0,5 di drop Comunque sono davvero eccezionali Ne parleremo Diteci poi sul canale quale delle due preferite Che testeremo prima l'una e poi l'altra Promettiamo di fare ovviamente sempre i famosi 100 km E poi avrete le nostre notizie In quanto sono americani io direi le 100 miglia 161 allora, per essere precisi Ma Andrea, l'hai sentito il drop 0? Perché io ho preso il drop 5 Però secondo me andavo più forte di te oggi Ma andavo più forte Dopo guardiamo su Strava Comunque io continuo a dirla Questa cosa del drop non la sento Sicuramente è una scarpa da correre in avampiede Quindi forse è una scarpa che sia adatta proprio alle mie caratteristiche Va bene, ne parleremo comunque nei prossimi giorni sul canale Vi ringraziamo ancora Ciao, alla prossima Ciao